ciao e bentornati alle pillole di flexo.expert nella pillola precedente in cui parlavo della stampa dell'inchiostro bianco ho commesso una piccola inesattezza descrivendo la lineatura del rullo anilox in celle al centimetro ho utilizzato la dicitura ccm che non è esattamente corretta perché avrei dovuto scrivere c barra cm questo mi ha fatto venire in mente che magari era opportuno spendere due parole per le unità di misura con cui andiamo a descrivere le misure del nostro rullo anilox iniziamo dalla lineatura la lineatura è il numero di cellette per una unità di misura lineare e quindi nel sistema metrico ci esprimiamo in centimetri e diciamo linee al centimetro o meglio celle al centimetro perché dico meglio perché con il termine celle al centimetro è ben chiaro che ci stiamo riferendo a un rullo inciso al rullo anilox mentre invece con linee al centimetro si potrebbe fare confusione con la lineatura di stampa o quella del cliché nel sistema imperiale abbiamo anche qui linea al pollice che spesso anzi sempre viene utilizzato per indicare la lineatura di stampa mentre invece le celle al pollice cpi è la unità di misura che viene indicata per la lineatura del rullo anilox per quanto riguarda il volume qui è più semplice nel sistema metrico abbiamo i centimetri cubici al metro quadro quindi non i grammi centimetri cubici al metro quadro mentre invece nel sistema imperiale abbiamo i bcm che sono miliardi di micron cubici al pollice quadrato e come convertiamo tra un'unità di misura a un'altra tra i pollici e i centimetri quindi sulle unità di misura lineari abbiamo il solito coefficiente 2,54 quindi per passare alle celle al centimetro a partire da quelle al pollice dobbiamo dividere per 2,54 mentre per ottenere le celle al pollice dalla lineatura in centimetro dobbiamo moltiplicare la lineatura al centimetro per 2,54 per quanto riguarda invece il volume avremo il volume in centimetri cubici che si ricava dal volume in bcm moltiplicandolo per questo coefficiente di 1,55 per ottenere il valore invece di bcm a partire dal volume in sistema metrico dai centimetri cubici al metro quadro dovremo dividere per 1,55 bene io spero che questa piccola pillola sulle unità di misura sia stata interessante e come al solito mi auguro di vedervi alla prossima pillola ciao arrivederci